La provincia di Taranto protagonista la Quirinale con la premiazione di Biagio Tagliente Andrea Occhinegro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato le onoreficenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana conferite a cittadini e cittadini che si sono distinti per impegno sociale o atti di eroismo. La cerimonia aperta dall'intervento del Capo dello Stato è stata condotta dall'attrice Carolina Crescentini. Tra i premiati è anche Biagio Tagliente, Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso il commissariato di Martina Franca e neocavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana per il suo tempestivo e risolutivo intervento a favore di una bambina colpita da crisi respiratoria. Il 12 ottobre 2022 è fuori dal servizio, ha prima tentato di rianimare una bimba di 20 mesi e poi l'ha trasportata assieme ai genitori al pronto soccorso salvandola. Il Tarantino Andrea Occhinegro invece è stato nominato ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica per il suo contributo nell'organizzazione di iniziative di solidarietà per ridurre il disagio sociale grazie a una rete capillare e al coinvolgimento di figure professionali. Medico-oftalmologo è il presidente dell'Associazione Benefica Fulvio Occhinegro, organizzazione di volontariato costituita nel 2005 a Taranto, con un centro dedicato alle persone senza fissa dimora e alle famiglie bisognose della città. Due esempi che commuovono e indicano la strada giusta.